Benvenuti ragazzi, mi presento, sono Agnese Giacomoni e insegno lettere presso il liceo classico del Nolfi Apolloni di Fano. Dunque, che cosa dovrebbe spingervi ad iscrivervi al liceo classico? Innanzitutto la curiosità. Se siete curiosi di conoscere il passato e le realtà che spiegano e fondano il mondo in cui viviamo, se per indole siete portati ad approfondire e a ricercare cosa si nasconde dietro l'apparenza delle cose, se avete una certa attitudine allo studio e volete acquisire un metodo di studio efficace che vi permetta di affrontare con tranquillità qualunque facoltà universitaria, questa è la scuola che fa per voi. Che cosa in particolare caratterizza il liceo classico? Questo indirizzo di studi offre a voi studenti una preziosa occasione di allenamento. Non a caso il primo biennio tradizionalmente viene chiamato ginnasio, un termine che in greco, in greco antico, disegnava la palestra. Si tratta ovviamente di allenare la mente attraverso uno studio approfondito e sistematico del latino e del greco, le due principali materie di indirizzo del nostro liceo. Questo allenamento vi darà la possibilità di conoscere meglio le strutture linguistiche dell'italiano, le sfumature semantiche della vostra lingua madre, vi consentirà di padroneggiare con sicurezza il lessico e l'arte retorica. Attraverso la riflessione etimologica, pressoché quotidianale nelle nostre lezioni, scoprirete le radici delle parole e ciò renderà il vostro studio affascinante e davvero molto molto avvincente. Tradurre dal greco e dal latino significa anche sviluppare le capacità logico-intuitive che sono essenziali anche per uno studio proficuo delle materie scientifiche. Ma non è tutto. In particolare, nel corso del triennio che segue il ginnasio, il liceo classico vi darà la possibilità, attraverso la lettura anche in lingua originale delle opere dei più importanti autori, di conoscere la civiltà greco-latina che ha lasciato al nostro tempo una preziosa eredità e che costituisce le fondamenta del mondo occidentale. Comprenderete come alcune tra le più importanti invenzioni della civiltà europea, il teatro, le arti, la medicina, la storiografia, la filosofia, la matematica, la geometria, la geografia, l'urbanistica, la politica, eccetera, ci sono state consegnate dai greci, i quali le hanno tramandate alla tradizione latina che, a sua volta, ne ha ampliato alcune sfere, ad esempio il diritto, l'architettura, l'ingegneria, eccetera. Pensate, il cristianesimo, il rinascimento, l'illuminismo e persino l'attuale rivoluzione digitale e scientifica non sarebbero pienamente comprensibili senza l'eredità e l'apporto della cultura classica e del pensiero antico. Ma frequentare il liceo classico non significa studiare solo il greco e il latino, anche le discipline scientifiche hanno il loro peso e avrete persino la possibilità di seguire un corso potenziato di matematica e fisica. Inoltre sono attivati tanti progetti a cui potrete accedere, certificazioni linguistiche molto valide, il corso di cinese, il laboratorio teatrale Modulab, il concorso letterario La parola innamorata, il premio letteraria, la rassegna e utopia, più saggi con i classici, eccetera. Mi preme tuttavia a menzionare un progetto sperimentale che è attivo solo per i ragazzi del classico. A partire dal terzo anno avrete la possibilità di seguire un percorso di biologia con curvatura biomedica molto utile in vista di un orientamento futuro verso facoltà medico-sanitarie. Dulcis in fundo, ormai da un po' di anni in quinta liceo durante l'ultimo anno di studi si organizza uno straordinario viaggio in Grecia che vi darà l'opportunità, seguendo le tracce archeologiche, di toccare con mano molte delle cose che avrete studiato sui libri. Il liceo classico vi permetterà di affrontare con risultati profiqui qualsiasi facoltà ed è noto che i ragazzi usciti dal classico hanno la più bassa percentuale di abbandono dei percorsi universitari. Ma se anche vorrete entrare direttamente nel mondo del lavoro senza frequentare l'università avrete con voi un prezioso bagaglio di conoscenze che vi consentirà di mettere a frutto le vostre competenze e i vostri talenti naturali. Questo percorso di studi vi regalerà un tesoro umano e culturale inestimabile, utile per affrontare con serenità sia gli studi futuri che il mondo del lavoro. Venite a trovarci ai nostri Open Day, buona scelta! Grazie!